Tariffe agevolate di gas e luce per tutti gli iscritti a Confedilizia Arezzo, grazie ad un accordo sottoscritto con Estra Energie. L'intesa è stata firmata nei giorni scorsi ed è quindi già operativa. Tra le novità più importanti, l'accordo sconto canone 50, che prevede una riduzione, una tantum, di 50 euro sul canone al termine del primo anno di fornitura estra. Confedilizia è un'importante associazione nazionale che opera nel territorio e che rappresenta i proprietari di abitazione, i condomini e noi abbiamo realizzato un accordo importante del quale siamo molto contenti perché saremo in grado di offrire delle agevolazioni soprattutto a quei proprietari di casa, ai condomini che oggi magari usufruiscono solo del servizio di erogazione del gas ma vogliono estendere il loro rapporto con Estra all'energia elettrica. Saremo in grado di garantire uno sconto canone 50, cioè pagheremo più della metà del canone RAI che come sapete è previsto in bolletta da un po' di tempo. Ormai Estra Energie ha preso in considerazione tutti e ovviamente deve prendere in considerazione tutti i cluster, i segmenti di mercato. Noi siamo presenti su tutta la filiera del gas e dell'energia elettrica, quindi si va dal cliente industriale con consumi elevatissimi al cliente domestico che consuma anche magari solamente 100-200 metri cubi per l'uso cottura. Il segmento dei condomini è un segmento che noi abbiamo perso un po' di vista e quindi con questo accordo vogliamo tornare prepotentemente su questo mercato. Importante sarà il ruolo dei professionisti iscritti al registro degli amministratori immobiliari di Arezzo, il Coram, che potranno da subito attivare nei condomini da loro amministrati questo nuovo accordo. Avere una garanzia, essere seguiti, avere un accordo con Estra Energia e una realtà sul territorio è molto importante. Sappiamo se c'è qualche lamentela a chi rivolgerci a fronte di queste bollette, senza per carità volere nulla nei confronti di nessuno. Ma anche per noi mettersi in contatto con queste realtà diverse che noi non conosciamo è sempre più problematico. Qui sappiamo dove venire.